pel di carota è un bambino non molto amato che per combattere le nominazioni quotidiane della sorella ernestine del fratello felix e contro diciamo l'odio materno che appunto perché non è molto amato può usare solo l'astuzia che è l'arma dei deboli lo stile dell'autore è molto denso e preciso è molto non crudele molto rude diciamo in ciò che osserva ok la storia si presenta come una serie di racconti ok senza ordine cronologico e forse è data anche da ciò che ha vissuto l'autore l'infanzia felice dell'autore ok quindi potrebbe essere anche un po autobiografica perché pel di carota per via dei suoi capelli rossi e delle lentiggini e niente anche il padre comunque non è che lo amasse troppo molto indifferente con i suoi confronti